In questo caso, questo signore è stato beccato, è stato condannato, ha avuto tre benefici di legge, l'indulto è stato fatto dal Parlamento ma gli altri due valgono per tutti e per sempre, l'abbreviato e la buona condotta. Chi poteva prevedere? Oppure come si può fare? Cosa ci racconta questa storia? A parte la bestialità dell'atto ovviamente, perché stiamo parlando di pedofilia. Ma vedi, secondo me in questa vicenda ci sono due tipi di problemi. Uno è quello che hai raccontato bene tu, cioè quello dei sconti, riduzioni, riduzioni di pene, indulti, permessi, permessini, eccetera, che danno questa impressione di non certezza della pena. Perché è allucinante che per 25 violenze si scontino 8 anni. Se facciamo il calcolo significa 3,8 mesi, meno di 4 mesi per ogni violenza. Quindi violentare un bambino si scontano meno, una ragazzina fra i 13 e i 15 anni si scontano meno di 4 mesi di cacere. Che è una assurdità, è una cosa inaccettabile. Ma poi c'è un altro problema, che in questo caso ci troviamo di fronte a una persona chiaramente malata. Io ricordo numerosi casi di questo genere, ricordo Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, ricordo tanti pedofili che hanno parlato, che dicono noi comunque quando usciamo è più forte di noi, ci rendiamo conto di quello che facciamo ma non possiamo non farlo. Quindi secondo me, al di là degli sconti, sconticini di pena, dei calcoli col righello giuridico di quando... Queste persone non devono essere lasciate liberi di circolare, vanno castrate chimicamente, vanno rinchiusi in ospedale, non devono essere lasciate libere. Filippo, come usciamo da questa... Nicola, Mario Giordano, Meluzzi, nessuno potrà sospettarmi che io sia amico dei magistrati, voglio dire. Però, allora, noi non è che dobbiamo immaginare ogni volta che ci siano dei magistrati deficienti che così si divertono a lasciare in giro pedofili o gente che comunque compie crimini perché non arrivano a fare i ragionamenti che noi, tipo quello che ha fatto Mario Giordano adesso, facciamo in questo talk show. Non è così che funziona. In Italia comunque sia, c'è una cosa che si chiama articolo 27 della Costituzione, una cosa che si chiama legge Gozzini e i numeri purtroppo, lo dico col massimo rispetto per le vittime, vanno visti nella loro globalità, vanno visti grandi e la domanda da porsi è funzionano queste leggi? Cioè per un caso come questo, disgraziato, maledetto e che infatti finisce nell'occhio dell'opinione pubblica Giordano segnala un numero Ci sono, ci sono dei numeri che magari spero non siano quelli di Giordano, non lo so, dei numeri per cui globalmente si possa dire che tanta gente viene comunque recuperata, viene e che la legge Gozzini funziona. La risposta è sì. Il mio ragionamento non sarà scenografico come i numeri dell'otto che sta dando Mario Giordano, però la legge Gozzini funziona. Sono le ragazzine violentate, Filippo, 25, 25, come ti permetti di dire i numeri dell'otto? Mario scusa una cosa, ma io stasera, io non so cosa ti è successo stasera, ma tu hai ascoltato quello che ho detto? Ho ascoltato, hai detto che sono i numeri dell'otto, le bambine violentate, hai detto che sono i numeri dell'otto, Filippo. Sì, ho detto così, va bene. Ho detto che se fai, applichi una legge che funziona, non lo so, adesso io i numeri l'invento. Non funziona la legge Gozzini, Filippo. Funziona la legge Gozzini, perché per uno come questo ce ne sono 900 che invece tornano alla vita normale. che non funziona la legge Gozzini, che non funziona, è tutta la vita che ci leggiamo uno con l'altro Mario, fai una campagna per abolire l'articolo 27 della Costituzione. Falla, perché io ti assicuro, tu non sei d'accordo con quell'articolo e te lo dico proprio senza polemica. Cioè l'articolo 27 che è quello del re... E' quello che spiega che la pena deve avere un ruolo riabilitativo, terapeutico e che non serve a tenere la gente lontano dalla circolazione. Bene, avvocato. Filippo, Filippo. Io mi chiedo veramente, è 30 anni che ne spiego, ma che cosa dobbiamo fare? Lo chiedo, non so, al Ministro dell'Istruzione, della Giustizia, che cosa dobbiamo fare? Quanti film americani dobbiamo vedere per apprendere la cosa basilare che un colpevole, perché lui tra l'altro è confesso, va in galera, ci va in galera, dopo un processo, non prima, dopo un processo. E se un giudice l'ha liberato, evidentemente io che amico dei giudici non sono, perché ha valutato che costui può andare col braccialetto, entro con determinati limiti e circostanze, al processo, come avviene in tutti i film americani e nella giustizia americana, tranne che in Italia, a piedi al suo processo, dove 100% verrà condannato e finirà in galera dopo il primo grado, perché questo prevede la Corte d'Asset. Che cosa dobbiamo fare per imparare questo? Giordano, e poi voglio Francesco Caringella e Magatti, però voglio sentire il vostro punto, perché quello è alle resti domiciliari, comunque col braccialetto, quindi da lì non può uscire, e dice facci, fino a prova contraria, in Italia c'è l'idea che uno va in galera dopo un processo? Sì, va in galera dopo un processo, ma se i reati sono di sangue, secondo me deve essere aumentata la carcerazione preventiva, vanno accelerati sicuramente i processi, ma è vero, come si diceva prima, che non bisogna seguire l'allarme sociale per i reati, però non si può neanche trascurare il forte senso di impunità che oggi c'è in Italia, c'è la sensazione che chi delinque e poi tranquillamente ritorna a casa, magari mi passa sotto casa, magari torna a delinquere, come nel caso dei fidanzati che vengono rilasciati e riaggrediscono le stesse donne, e magari le ammazzano dopo averle già minacciate, e quindi c'è questa sensazione fortissima. Non si può fare quella cosa lì. Sì, si può fare, invece bisogna farlo. No, la Costituzione lo impedisce. No, no, bisogna farlo, capisci? Si cercò di farlo, ti ricordi il decreto antistupri, la Carfagna, eccetera? Cercarono di mettere la custodia cautelare fissa fino al processo per i sospettati di stupri. Poi arrivò la Corte Costituzionale e spiegò che non era possibile. Però fermati, perché vi voglio anticipare, tu hai anticipato un tema portato. Non è più accettabile, noi abbiamo visto in questo scorcio d'autunno, voi stessi qui avete mandato in onda quell'intervista clamorosa al padre dei due stupratori che dice tanto fra due mesi saranno liberi, lo sa pure lui. A Reggio Emilia abbiamo avuto un pedofilo, reo confesso, che viene lasciato libero con ordinanza del giudice che dice lo lascio libero perché è pedofilo, reo confesso ma disciplinato. Abbiamo fatto la configurazione del pedofilo disciplinato. È chiaro che poi bisogna trovare il modo per evitare che c'è, perché altrimenti cresce troppo la sensazione di mancarsi a certezza della pena. Scusa, il modo già c'è, perché le tre ragioni di cui parlava faccio e adesso che prevedono la cancella preventiva sono l'inquinamento delle prove pericolo di fuga e l'interazione del reato. Ed essendo il sex offender, un soggetto che classicamente tende a interare il reato, è chiaro che la possibilità di farlo c'è. Scarigella, Francesco, Francesco.